Antonio Cassano Ambrosini Verticale per Sedorf Subito il tocco largo per Ronaldinho Può puntare Stanchevicius Attenzione a Ronaldinho Mette dentro per Sedorf Che gol Clarence Sedorf L'ennesimo assist di Ronaldinho Più di tutti adesso in Serie A Zambrotta Cerca spazio per il cross Pallone ribattuto Ancora Zambrotta rimette Borriello fa sponda Per Pato 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 Castellazzi Pato 3 a 0 È un grande Milan Pirlo per Abate Attenzione alla possibilità per il Milan Abate dentro Pato Si salva la Sub Pirlo Pato Ci vuolà Stanchevicius Pato Grande giocata Doppio dribbling E poi Castellazzi Dice di no Bellucci Il tocco è fuori per Tissone Occhio al destro di Tissone Di Da Largo dalle parti di Pato Va via Stanchevicius Grande giocata di Pato Attenzione Può accendersi anche in questo finale Pato 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 Castellazzi Dice di no Cosa aveva fatto Pato Gagliani e Berlusconi In tribuna Dice di no Dice di no Dice di no Dice di no